Come anticipato ci ritroviamo in collegamento con Antonio Palmieri, presidente della Fondazione Pensiero Solido, nonché ideatore del Premio Comunicazione Costruttiva, un caro amico di Padre Pio TV che ci fa piacere ritrovare di tanto in tanto per fare il punto sui temi della tecnologia digitale e dell'intelligenza artificiale. Ma innanzitutto, cara Maria Pia, lo salutiamo e lo accogliamo in diretta su Padre Pio TV. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Come vedete ci incontriamo questa volta non da Milano ma dalla montagna. Che bello, che bello lo sfondo che ci stai regalando. Dove sei di preciso a goderti il fine settimana? Noi siamo in Val Brembano, poco sopra Bergamo e siccome, come sapete, per noi milanesi non è ancora quaresima e le scuole peraltro sono rimaste chiuse in questi giorni, di conseguenza abbiamo portato con mia moglie e i figli a cambiare un po' d'aria, a prendere un po' d'aria più buona, diciamo così, di quella milanese che peraltro come noto è buonissima. Hai fatto benissimo, tra l'altro Maria Pia sa che io sono un grande amante del trekking per cui vorrei essere lì con te in questo momento. Puoi partire immediatamente, lo so. Vi aspettiamo e vi aspettiamo, quindi non esitate. Grazie, grazie Antonio. Dicevamo si fa sempre più parlare di intelligenza artificiale, tu segui molto da vicino l'argomento con contenuti sempre estremamente interessanti che vengono quotidianamente diffusi sul sito della Fondazione Pensiero Solido che vedremo anche in copertura video tra qualche istante. Volevo chiederti un po' il punto della situazione. Diciamo che il punto della situazione per farlo in modo adeguato richiederebbe qualche giorno, ma in estrema sintesi il punto per me e per noi rimane sempre quello. L'intelligenza artificiale generativa e conversazionale, cioè questo tipo di intelligenza artificiale nuova, per così dire, che abbiamo imparato, stiamo imparando a conoscere da poco più di un anno, da 15-16 mesi, è uno specchio, cioè ci mette di fronte a noi stessi. La prima questione, prima ancora di imparare come usarla, prima ancora di capire come regolarla, prima ancora di approfondirne le potenzialità che sono oggettivamente enormi, ma la prima questione è che l'intelligenza artificiale è uno specchio che ci mette di fronte a noi stessi e ci obbliga a ridefinire noi stessi il nostro rapporto con la realtà e con la verità. Questo è il punto ineludibile di partenza del quale a mio giudizio troppo poco si parla. Grazie, è veramente una riflessione molto opportuna. C'è Maria Pia che ha molto paura dell'intelligenza artificiale, no Maria Pia? No, diciamo che l'aggettivo artificiale è comunque un po' limitante, però volevo chiedere al nostro gentilissimo ospite, nonché esperto, visto che la notizia del giorno è ancora la morte misteriosa in qualche modo di Navalny, è un personaggio che tra l'altro, prima non ho avuto il tempo di dirvelo, era al centro di un documentario che ha vinto il premio Oscar l'anno scorso e una delle frasi proprio del trailer era questo, era solamente se si combatte il male si fa il bene, cioè proprio il basic, se vogliamo, dell'impegno per ciascuno di noi. Ora la questione dell'intelligenza artificiale ovviamente mobilita le questioni dell'etica, cioè dei comportamenti italiani e non solo, ma noi in Italia direi che siamo particolarmente versati a discutere fino all'ultimo. Non a caso abbiamo anche addirittura un frate francescano, che è uno dei massimi esperti in materia, fra Paolo Benanti e ne andiamo orgogliosi. Ecco, quindi quale sarebbe, secondo lei, il punto cruciale da mantenere dopo la morte di Navalny? Quale parte della sua eredità è la migliore? Diciamo che purtroppo la triste morte di Navalny e l'intelligenza artificiale naturalmente sono due argomenti completamente diversi, perché qui si parla di politica, si parla della morte di un oppositore a quello che purtroppo di fatto è oramai un regime autoritario, nonostante in Russia ci saranno tra poche settimane le elezioni e quindi questo naturalmente è una questione che ci interpella tutti, che ci rimanda al tema della guerra. Sì, ma la tecnologia ha avuto un grande ruolo proprio riguardo a tutto il modo nuovo di fare opposizione a Putin? Ma allora, la tecnologia, essendo che siamo nell'era digitale, ha a che fare con tutti gli aspetti della nostra vita, a partire dal fatto che attraverso i social, laddove essi sono liberi, naturalmente questo non avviene nelle dittature o nelle democrazie, diciamo così, a sovranità popolare limitata, allora naturalmente a partire dai social che ci consentono di seguire i personaggi, io ho in mente per esempio Gary Kasparov per stare in Russia, l'ex campione del mondo di scacchi, che da tanti anni è uno streno oppositore di Putin e appunto attraverso i social, io lo seguo da lungo tempo, sono e siamo in grado di capire le sue posizioni, quello che sta facendo, quello che sta dicendo. Quindi questo è un dato di fatto perché siamo nell'era digitale, un'era della quale non dobbiamo avere paura per due motivi, primo perché è ricchissima di opportunità, lo specchio di cui parlavo prima è uno specchio che consente di vedere non solo le cose che non vanno, ma soprattutto ci deve aiutare a vedere le cose che vanno e come noi, ciascuno di noi, proprio grazie a queste tecnologie, può essere protagonista in positivo di quella costruzione del bene a cui le ha fatto riferimento e che è il compito della vita di ciascuno alla fine. Quindi di conseguenza, o dovrebbe essere, e quindi di conseguenza il primo punto rimane sempre quello, non avere paura, non avere paura delle condizioni politiche avverse, non avere come non ha avuto Navanni, o meglio, con il coraggio che ha avuto Navanni, che immagino abbia avuto tanta paura nella sua vita, ma con il coraggio di superarle, non avere paura delle tecnologie, non avere quindi un buon uso dei social, nessun algoritmo ci può obbligare a usare i social malamente, insultando le persone, non dialogando, non approfondendo, non avere paura dell'intelligenza artificiale generativa, ma anzi appunto conoscendole, conoscendole le potenzialità e sapendo che è un software, è un algoritmo, non è una entità, ma è semplicemente una macchina, un software appunto, costruito raccogliendo tutto quello che noi esseri umani abbiamo pubblicato, e diciamo di noi, nei social, nei libri, nelle varie pubblicazioni, nei vari filmati. Quindi il punto, e chiudo, è quello, non avere paura. Grazie, grazie Presidente, ovviamente ecco, è l'intelligenza artificiale, la tecnologia più in generale, sono strumenti, come diceva giustamente lei, quindi l'approccio con il quale ci apprestiamo ad usarli è fondamentale, quindi la mentalità deve essere vincente nell'utilizzo di questi strumenti. Grazie per la riflessione, continuiamo a seguirvi su Pensiero Solido, dicevo, voi siete anche l'ideatore del premio Comunicazione Costruttiva, che è un'altra bella intuizione della Fondazione, e Dio se lo sa di quanto abbiamo bisogno di questo approccio, a questi temi e a questi strumenti. Quindi grazie ancora Presidente, e buon fine settimana. Grazie, grazie a voi, attrettanto a voi, e alla prossima. Ci sentiamo presto. Grazie, un saluto anche da parte mia. Un buon proseguo. Grazie, grazie, contro il cambio, e la prossima la facciamo dalla montagna. Assolutamente, ma del resto anche noi ti aspettiamo qui sul Gargano, per cui quando vuoi sarai ospite nei nostri studi fisicamente. Bene, noi ritorniamo alla nostra scaletta, ancora tempo di fermarci per qualche istante, e poi la volata finale del sabato di Just Today. Grazie, grazie a tutti.